Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Beis che compirà un gesto estremo verso gli Yaman. E non solo, Zuley avverrà a conoscenza del terribile passato di Beis. Cosa succederà? Siete pronte? Iniziamo. Erjan consegna a Demir l'elenco dei dipendenti che hanno la chiave dell'azienda e lo informa di aver raddoppiato la sorveglianza. Zuley gli dice che chi ha lasciato quella lettera ha chiaramente uno scopo. Demir risponde che chiederà dei soldi e li minaccerà di far trapelare il contenuto ai giornali e che presto arriverà una lettera di ricatto. Nel frattempo, si vede Fikret che sta scrivendo una lettera. Demir dice a Zuley che purtroppo il padre aveva relazioni non solo con Sevda ma con tante donne, e tutti a Cucurova lo sanno. Poi le dice che non giustifica il padre, ma lui era un grande signore a Cucurova e aveva molte donne intorno e sicuramente Sevda ne soffrirà. Ma si abituerà perché sua madre si è dovuta abituare a tante cose. Zuley gli dice che forse la persona della lettera potrebbe essere davvero figlio di Adnan. Ma Demir lo esclude perché il padre non avrebbe abbandonato suo figlio. Cambiano discorso e Demir dice che è un bene che i soldi di Ilmaz vadano agli orfani. Ma ora Beys deve essere molto arrabbiata. Zuley risponde che l'importante è che stia lontano da loro. Beys torna a casa infuriata. Prende il telefono ma questo non funziona. Esce di casa e va da Saniai che è con Gulten e Fadik e l'accusa di averlo rotto. Poi la insulta pesantemente. Tanto che Gulten e Fadik devono fermare Saniai dall'aggredirla. Poco dopo vengono a sapere che i soldi di Ilmaz sono stati ritrovati nel terreno che Zuley ha donato e sono diventati proprietà dello Stato. Allora tutte ringraziano Dio che Beys non avrà mai quei soldi. Quando Saniai racconta tutto a Gaffur. Lui le dice che lo sa perché era lì per conto di Zuley e aggiunge che anche Beys lo sa visto che era presente. E le racconta della scenata che ha fatto Beys. Infuriata. Beys va davanti alla villa e urla. Chiama Zuley. Esce Sevda che le chiede cosa vuole e che Zuley non è in casa. Beys le risponde che non sono affari suoi e inizia a parlarne male. Tanto che Sevda la schiaffeggia. Beys insulta furiosamente Zuley. E la situazione si fa violenta mentre si aggrediscono. In quel momento, Zuley torna con Sermin. E Beys, urlando, l'accusa di aver nascosto deliberatamente il denaro nel terreno. Le intima di rivendicare quei soldi attraverso il tribunale e di consegnarli a Mushgan. Zuley risponde dicendo che se Beys volesse davvero i soldi per suo nipote, dovrebbe comportarsi in modo educato, e li darebbe volentieri. Tuttavia, sa che Beys li vorrebbe solo per se stessa e non per Kerem. Beys minaccia Zuley, affermando che dimostrerà che i soldi appartengono a Ilmaz e che lei li ha nascosti intenzionalmente. Zuley, esasperata, caccia via Beys. Ma quando si rende conto che Beys vive nella villetta, rimane stupita. Gulten spiega a Zuley che Mushgan ha riconquistato la casa e ci vive con la zia, ma non glielo ha detto per non disturbarla. Zuley si arrabbia e se ne va. Zuley si reca in ospedale da Mushgan e la interroga sul motivo per cui ha mandato via Gulten e Chetín. Mushgan risponde che la casa è sua e può fare ciò che vuole. Umit, sentendo la discussione, si avvicina e chiede cosa stia succedendo. Zuley risponde che si tratta della coscienza di Mushgan, non della sua professione. Mushgan assicura che risolverà personalmente la situazione. Zuley ricorda a Mushgan che Gulten e Chetín vivevano lì su richiesta di Ilmaz. Ma Mushgan la interrompe. Dicendo che Ilmaz non c'è più e che dovrebbero smettere di pensarci. Zuley decide quindi che non merita più quei soldi e se ne va. Nonostante Mushgan la insegua e le chieda a cosa si riferisse con i soldi. In seguito, Mushgan raggiunge Beis, che ancora furiosa, afferma che Zuley ha donato il terreno di proposito, sapendo che i soldi erano nascosti lì. Beis sostiene che Zuley ha rovinato il loro futuro e quello di Kerem. Mushgan le dice che ha rovinato anche il suo matrimonio, ma ora non le permetterà di rovinare il futuro di suo figlio e la trascinerà in tribunale. Beis risponde che non può dimostrare nulla e che non sopporta di dover ancora dipendere economicamente da Fekeli. La serata arriva, e Mushgan chiede a Fekeli se ha sentito parlare del ritrovamento dei soldi. Lui risponde di sì e le spiega che stava aspettando che lei gliene parlasse. Mushgan gli chiede perché non ha fatto nulla. E lui risponde che non può fare niente, poiché i soldi ora appartengono allo Stato, e ritiene che sia meglio così. Mushgan accusa Fekeli di prenderla in giro e si lamenta del fatto che nessuno sembra interessarsi a suo figlio. Sospetta che Zuley abbia deliberatamente donato quel terreno per danneggiare Kerem. In risposta, Fekeli le mostra un documento che dimostra che Ilmaz aveva vincolato 30.000 milioni di lire a nome di Kerem. Fekeli, con tristezza, le ricorda quanto Ilmaz amasse profondamente suo figlio e quanto si preoccupasse per il suo futuro. Mushgan rimane senza parole di fronte a questa rivelazione. La notte è scesa, e dopo aver cenato con Zuleyha e Sevda, Demir riceve una chiamata da un amico. L'amico gli comunica che sta uscendo e chiede a Zuleyha di non aspettarlo, quindi sveglia Sevda. Guardando l'espressione di Zuleyha, Sevda nota che l'amore che Zuleyha prova per Demir è evidente, anche se lei lo nega. Nel frattempo, Fekeli si trova nel luogo in cui di solito si incontra con Ankar. Qui è raggiunto da Zuleyha, la quale gli dice che Ankar è orgogliosa di quello che fa e di com'è diventata. Poi parla del ritrovamento dei soldi di Ilmaz e dice di essere contenta che quei soldi siano finiti agli orfani. Fekeli le chiede se quando ha regalato quel terreno sapeva che i soldi erano nascosti lì. Zuleyha gli risponde di no. E lui le rivela che Ilmaz ha lasciato 30 milioni di lire a Kerem. E che li erediterà quando compirà 21 anni. Zuleyha si dice sollevata da questa notizia. Nel frattempo, Fikret è con Mushgan e le dice che dovrebbe essere felice ora che Ilmaz ha pensato a Kerem. Le assicura che non la lascerà mai sola. Ma quando cerca di baciarla, Mushgan lo ferma. Gli chiede cosa voglia da lei. Dicendo di non voler ripetere l'errore di amare un uomo sbagliato. E gli chiede se è sicuro dei suoi sentimenti. Fikret le risponde che è la prima volta che si sente in quel modo. E Mushgan gli dice che devono aspettare finché non sarà sicuro dei suoi sentimenti. Fekeli offre il caffè a Zuleyha e le dice che mentre per lui tutto è finito con la morte di Ankar. Per lei c'è ancora molta vita da vivere. E non deve chiudere il suo cuore. Anche se non deve dimenticare Ilmaz. Le dice che sa che Demir ama profondamente Zuleyha. E che lei non deve sentirsi in colpa se si avvicina a lui. Zuleyha risponde che tra lei e Demir è impossibile riavvicinarsi. Poiché si sono feriti reciprocamente in modo troppo profondo. Fekeli le dice che la vita talvolta riserva sorprese. Come il fatto che Demir abbia rischiato la vita per salvare Ilmaz. Zuleyha gli risponde che ha un debito di riconoscenza con Demir per questo e per averli protetti. Lei e Adnan. Fekeli le dice che Ilmaz l'ha affidata a Demir prima di morire e che anche lui ha il diritto di essere felice. E che forse possono esserlo insieme. La decisione spetta a lei. Ma lui sarà sempre al suo fianco. Fekeli si reca a casa di Umit. E lei gli racconta come si è avvicinata a Demir sotto la scusa di una perdita d'acqua da un tubo rotto. Ma non menziona nulla riguardo alla notte che hanno passato insieme. Fekeli le consiglia di catturare Demir prima che Zuleyha se ne accorga. Poi iniziano a discutere del loro piano. Fekeli le dice che grazie a lei, tutti vedranno Demir come un vile, come suo padre, un uomo che tradisce sua moglie. Ma questa volta non sfuggirà alle conseguenze, perché lei prenderà i suoi beni e distruggerà il suo matrimonio. Dopo di ciò, lasceranno Kukurova, e lei potrà andare ovunque voglia. Umit gli chiede se vuole ucciderlo, ma Fekeli risponde che faranno di peggio, tanto da farlo preferire morto. Lo disonoreranno di fronte a tutta Kukurova. Quella sarà la loro vendetta. Poi cerca di baciarla. Ma lei si ritrae. Saniai è rimasta sola con Gaffu, e gli ha chiesto il motivo per cui stava gettando la spazzatura di Base nonostante lei lo avesse costantemente insultato. Gaffu rai inventato una scusa. Ma Saniai lo ha messo in guardia, minacciando di ucciderlo se avesse fatto qualcosa a favore di Base prima di farlo. Nel frattempo, Demir è rientrato a casa e ha chiamato Fekeli per informarlo che Base ora vive nella villetta. Fekeli è stato sorpreso da questa notizia, considerando che aveva appena cacciato Cetin e Gulter. Demir ha aggiunto che Base aveva fatto del male a Zuleya e avrebbe fatto pentire se avesse continuato a infastidirli. Fekeli ha assicurato a Demir che avrebbe parlato con Mujgan per risolvere la situazione. Nel frattempo, Base si è lamentata con Mujgan delle minacce di Demir. Mujgan le ha risposto che se Base avesse evitato di parlare troppo, nulla di male sarebbe accaduto. Base ha obiettato che aveva il diritto di esprimere la sua opinione, specialmente dopo che Zuleya aveva rovinato il futuro di Kerem. A questo punto, Mujgan le ha rivelato dell'esistenza del fondo di 30 milioni di lire che Ilmaz aveva costituito a nome del figlio. Inizialmente, Base ne è stata felice, ma quando Mujgan le ha spiegato che quei soldi erano destinati a Kerem e bloccati in banca fino al suo ventunesimo compleanno, Base si è infuriata e ha chiesto cosa ne sarebbe stato del suo futuro. Mujgan, sorpresa, le ha risposto che aveva già tutto ciò che voleva, e che si sarebbe presa cura dei suoi bisogni. Base ha accusato poi Mujgan di farla vivere in una villa disgustosa tra i contadini e di essere costretta a sopravvivere con uno stipendio misero. Mujgan ha iniziato a riflettere e capire la verità. A Base non importava di lei o di Kerem, ma solo di se stessa. Base ha cercato di ammorbidire il tono e ha detto a Mujgan che l'aveva fraintesa. Tuttavia, Mujgan, delusa, le ha detto di stare lontana da lei e dal suo figlio, sancando così il loro distacco. Fekeli ha visitato Mujgan in ospedale e le ha detto che la villetta era sua, ma non era suo diritto cacciare Cetin e Gülter, che si erano appena sposati. Mujgan ha risposto che non ci aveva riflettuto, poiché sua zia le aveva detto di non voler vivere in quell'appartamento. Poi, confessa a Fekeli di aver creduto che Base amasse lei e suo figlio, ma ha finalmente capito che aveva sempre avuto ragione quando cercava di farle aprire gli occhi. In realtà, quando era felice per il pensiero di Ilmaz nei confronti di suo figlio, lo aveva condiviso con sua zia. Ma quest'ultima aveva mostrato scarsa empatia, pensando solo a se stessa. Adesso, si sente sola, senza una casa e nessuno a cui rivolgersi. Fekeli le risponde che non è sola, che per lui lei rappresenta una figlia, e si prenderà cura di lei per tutta la vita. Mujgan lo abbraccia, commossa. Nel frattempo, Fadik è in cucina con Sevda quando Rashid si presenta alla porta con un regalo in mano. Fadik rimane senza parole, mentre Saniai lo interroga riguardo alla sua assenza senza dare notizie, lasciando la povera ragazza in attesa il giorno delle nozze. Intanto, Base chiama Gaffur, il quale, temendo, si avvicina a lei. Base gli ordina di raccogliere la spazzatura, ma Gaffur risponde che non può farlo, altrimenti Demir lo ucciderà. Base lo minaccia di mandarlo in prigione e lo costringe ad accettare. Rashid racconta che i suoi zii, che sono la sua famiglia, hanno avuto un incidente stradale, e lui è stato chiamato d'urgenza per occuparsi di loro. Saniai gli dice che bastava andare all'ufficio postale per chiamare e avvertire. Rashid risponde che ci ha pensato ma non aveva il numero di telefono. Lei gli obietta che bastava dire il nome di Demir Yaman per poter chiamare. Base consegna a Gaffur una lunga e costosa lista della spesa da comprare e pagare. Gaffur obietta di non avere i soldi, ma lei gli dice che lo ha visto rubare dei soldi quando era al cantiere e che deve pagarla se vuole rimanere libero. Nel frattempo, Rashid cerca di farsi perdonare da Fadik, ma lei gli risponde che sta cercando di ingannarla e che tra loro è finita. Gli restituisce l'anello. Zuleya si incontra con il detective Sadi, che le dice che nelle indagini sull'omicidio di Ankar, è stato trascurato di trovare il taxi che l'ha portata alle rovine, ed è importante interrogare il conducente. Poi le riferisce che ha investigato su Base, che appartiene a una famiglia facoltosa e ha avuto due mariti morti subito dopo il matrimonio, il che risulta molto sospetto. Non ha prove contro di lei, ma promette che le troverà. Chetine e Gülter sono nella loro casetta, e lui chiede se si dispiaccia per aver lasciato la villa. Gülter risponde di no, che non voleva vivere lì, ma non ha detto nulla per rispetto a Ilmaz. Non si sentiva a suo agio a vivere in una villa vicino al fratello che vive in una vecchia casetta. Chetine, notando la sensibilità di Gülter, le prende la mano e la bacia. In quel momento, arriva Fecheli, che entrambi sono felici di vedere. Si unisce a loro a tavola, mentre Gülter è in cucina. Fecheli chiede a Chetine se è felice del matrimonio, e Chetine risponde positivamente. Fecheli gli assicura che non gli farà mai del male a sua nipote. Dopo cena, Fecheli rivela di non sapere che Mushgan li aveva mandati via dalla villa. Chetine spiega che non volevano disturbare. Fecheli dichiara che si sarebbe sempre preoccupato per loro, poiché li considera come figli. Se lo avesse saputo, avrebbe cercato una soluzione, poiché Beis non meritava di vivere lì. Tuttavia, decide di non intervenire per non creare disagio. Mushgan propone ai due ragazzi di vivere con lei nella villa, ma essi si guardano a lungo prima che Gülter ringraziasse e spiegasse che era importante per loro vivere con le entrate del proprio lavoro. Fecheli accoglie la loro scelta e sottolinea a Chetine che ha sposato una donna di grande valore, con la quale condurrà una vita felice e onorevole. Mentre la cena è in preparazione e Mushgan apparecchia la tavola, Fikret arriva e le dice che Fecheli non sarebbe rientrato, quindi sarebbero stati solo loro due per la cena. Fikret sembra visibilmente confuso e aggiunge che ha dimenticato un impegno importante, quindi se ne va subito. E con questo, concludiamo queste anticipazioni di Terra Amara. Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Se siete impazienti di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, scrivete, non vedo l'ora, nei commenti, e pubblicheremo presto un nuovo video.